Dico, quantomeno forse i padinobili, visto che sono stati responsabili della volontà di compiere un assassino politico del Movimento 5 Stelle durante le scorse elezioni politiche, dove notoriamente preferirono la scissione di Di Maio e a noi ci abbandonarono descrivendoci come i reietti della patria, allora prima facciano ammenda del disastro politico che hanno fatto e poi semmai iniziano a ragionare e a rapportarsi con noi, però altrimenti vedo solo tanta spocchia nel tentativo di ergersi a federatori quando invece abbiamo bisogno di chiarezza politica. E poi rimane il tema che noi siamo delle persone semplici nel Movimento 5 Stelle, noi lavoriamo su temi, progetti, programmi, piuttosto che sulle alchimie di laboratorio. Chi vuole lavorare con noi quindi si misuri su questione morale, transizione vera, ecologica e non tramite inceneritori, politica estera, sulla sanità e riferimento a tutti.